In Campania non si può camminare per strada E quando dice una cosa a lui non si discute più, basta! Soltanto aggiungiamo la possibilità di far visita a congiunti Prego, i congiunti Il primo giugno è la data per cui vorremmo poi riaprire più ampiamente le attività dei barbieri Ragazzo spezzola, subito! E dobbiamo essere consapevoli, la curva del contagio potrà risalire Tocchi questo, tocchi questo Questo però, attenzione, cosa significa che rimaniamo inerti? Non so Credo di aver detto tutto Con questo ho detto tutto e mi dispone, perché dice dice e non dice mai niente Darei adesso e via alle domande Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare Per dove dobbiamo andare? Andare In questo momento non lo so neanche io Non c'è